Lei è Lizzie. Ciao, Lizzie. Dice che me la sono fatta addosso per la paura. Se l'è fatta addosso? Questo non è vero. Io sono coraggiosa. Ve lo dimostrerò. E lui è Red. Coraggio, posso farcela. Lizzie! Corri! Mi stai seguendo? Cosa ci fai qui? Sono come te. Che cosa state facendo? Quaggiù, voi due. Perché tocchi ogni cosa? Benvenuti nel parco dei divertimenti. È quasi come a casa qui. Nel 2022. Stai iniziando? Preparatevi a vivere la più magica delle avventure. Forza! Che cosa stai aspettando? Lizzie e Red. Amici per sempre. Wow! È stato veramente magnifico! Stai iniziando? Ciao!